Daniele Dal Moro contro il grande fratello e non solo, un po' contro tutti, il ragazzo ha promesso che questa sera farà una diretta infuocata su Twitch dove parlerà di tante cose, naturalmente anche della squalifica sua dal grande fratello VIP e parlerà anche del pelato, sì, parliamo proprio di Alfonso Signorini, stasera l'ex Geffino promette battaglia su tante cose, ma soprattutto ci farà delle rivelazioni, ha annunciato una sorta di scaletta i seguenti temi, ringraziamenti, la reunion con Edoardo Dona Maria, il cavolo che me ne frega di quello che dicono su Twitch, la M puntino puntine del grande fratello italiano. Daniele Dal Moro parlerà anche della grande M puntino puntino e del grande hermano VIP di Telesinco dove aveva partecipato appunto la sua fidanzata Oriana. Dagli amici mi guardi Dio, che dai nemici mi guardo io. E poi a voglia parlerà dei Donnalisi, dei Basciaroni e poi ovviamente del pelato infame che ci sta sempre ovviamente bene. Aspettiamo quindi Daniele tutta la verità. Oriana ovviamente si è dissociata. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!